Ciao ragazze, oggi video e prime impressioni di alcuni prodotti che mi sono stati gentilmente omaggiati da un'azienda, la Labo Makeup Per chi mi segue su Facebook ho già visto la foto che vi ho postato con i prodotti che ho ricevuto Allora, voglio ringraziare Umberto per la possibilità che mi ha offerto Inizio col mostrarvi la loro brochure dove vi propongono tutta la linea della Labo Makeup La Fashion Treatment con l'acido ialuronico La Labo Makeup io già la conoscevo perché in passato ho avuto modo di provare un loro fondo compatto ed è davvero un'ottima azienda di alta qualità Questa linea, soprattutto i prodotti viso, sono stati studiati come prodotti riempitivi, delle rughe di espressione e per rendere la pelle più elastica Vi leggo tutti i test che hanno subito i prodotti della Labo Makeup Tutti i loro prodotti sono Paraben Free Sui prodotti Labo Makeup Fashion Treatment sono stati eseguiti test di tollerabilità cutanea Ipoallergenicità sulle proposte viso e labbra, non comedogenicità sulle proposte viso A test oftalmologici sono invece stati sottoposti i prodotti occhi Test sui metalli pesanti come nickel, cromo, cobalto sono stati eseguiti sull'intera gamma di prodotti Labo Makeup Fashion Treatment Quindi sono davvero prodotti molto molto validi E soprattutto per le ragazze magari allergiche Sono tutti prodotti che non hanno profumazioni Io sia ho prodotti viso che occhi che labbra E ogni loro prodotto non ha profumazione proprio per evitare problemi di allergie La loro linea trucco è completa È formata da una linea viso che comprende la BB Cream In sé colorazioni Questo per una BB Cream è davvero difficile da trovare Pochi brand fanno sé colorazioni per quanto riguarda la BB Cream Lo stesso vale per il fondotinta fluido illuminante E il fondotinta crema levigante E poi c'è il correttore fluido E questa è la linea viso che come potete vedere ha una vasta gamma di colori Anche per i vari sottotoni di noi ragazze Poi il viso comprende la cipra compatta, la terra abbronzante e il fard a strisce Sempre come prodotti per il viso E come potete vedere sono in tre colorazioni Per quanto riguarda la linea labbra Comprende il rossetto lunga tenuta Il lip gloss effetto specchio E la matita labbra in quattro colorazioni E poi come occhi abbiamo il mascara roll on in tre colorazioni Il casal La matita occhi La matita per sopracciglia Vi faccio vedere tutte le varie colorazioni Sono la matita occhi in cinque colori La matita sopracciglia in due colori E la palette di cinque imbretti in tre combinazioni di cinque colori E poi per finire ci sono gli smatti effetto laccato lucido In sei colori Quindi come potete vedere è davvero una linea completa Vi faccio vedere subito io cosa ho ricevuto Vi faccio vedere anche la pochettina Come sempre a me mi cade tutto Ho ricevuto all'interno di questa pochettina bellissima Di raso Fucsia Un rossettino E la matita occhi Che vi faccio subito vedere Allora questa E l'iPencil Della Labbo Che è quella che ho nell'arima interna Di questo turchese molto molto intenso Ed è duratura A livelli estremi proprio Come potete vedere Il tratto è molto morbida Come matita Ha un tratto bello scrivente Molto morbida Si sfuma facilmente E il colore è bello pieno Davvero ottimo prodotto Io l'ho ricevuto in questa colorazione Ma ci sono altre quattro colorazioni Di questo prodotto qui E' fatta da un lato la matitina E dall'altro lato c'è lo sfumino Che vi permette Di sfumare il prodotto In maniera precisa Quindi molto molto carina Ed è la 12 turquoise Ha una scadenza di 36 mesi Se ve le inquadra Perché il packaging è lucido Comunque è la 12 turquoise Si si vede Ed ha una scadenza di 36 mesi Poi vi faccio vedere Il rossettino Che è questo qui Si presenta in questa scatolina Il mio è nella tonalità 01 amber Ha una scadenza di 24 mesi Ed è 3,5 ml di prodotto Se non erro Vi faccio vedere Vi faccio vedere come si presenta Il prodotto Ha un packaging lucido Molto elegante Secondo me Ed è 3,5 ml 3,5 ml di prodotto Una scadenza di 24 mesi Il mio è lo 01 Che è un nude Questo è in stick Un nude Che va Che vira al marrone A quel marrone Che va sull'arancio Ve lo faccio vedere sbocciato Questo è il colore Io ho già avuto modo di provarlo È molto molto carino Sulle labbra E ha un finish sheer Come potete vedere Molto molto carino Idratante E una cosa che ho notato Leviga molto le labbra Anche se le avete un po' secche Le nutre molto Ve le rende lisce Molto molto valido Come prodotto E mi hanno mandato anche Il loro listino Allora La matita Occhi costa Se non erro 18 euro E il rossettino 22 Vi faccio vedere Poi alla fine Vi dirò le mie considerazioni Allora La matita Labbra No Occhi Eye pencil 18 euro Matita occhi 18 euro E il rossetto Lunga tenuta Costa 22 euro Poi Un prodotto Che Sto Amando Alla follia Ed è davvero Fantastico È la BB cream Con SPF 20 È 40 ml Di prodotto E la mia È nella tonalità 013 Alabaster Ed ha una scadenza Di 12 mesi Purtroppo I packaging Sono tutti Con queste scatole Lucide Quindi Le scritte Non le vedete Molto bene Vi faccio vedere Come si presenta Il prodotto La BB cream È quella che ho Sul viso E come potete vedere Dà un effetto Fantastico Sembra quasi Un fondotinta Una coprenza Di un fondotinta Si assorbe subito Non necessita Neanche Della cipria Perché vi lascia Il viso Liscio Idratato È molto Molto coprente Sono Estasiata Da questo Prodotto Che Sto utilizzando Insomma Sempre Da quando Me l'hanno Inviato La mia La 13 Alabaster Questa qui La 013 È 40 ml Di prodotto Adoro il packaging Perché come potete vedere È a tubetto Però porta L'erogatore A pompetta Quindi Vi permette Anche Di dosare Il prodotto Vi faccio Uno swatch La qualità È davvero Ottima Di questa BB cream È la migliore Che io ho provato Devo dire la verità Questo È il Il prodotto Vedete Si stende Che È una bellezza Ed è anche Molto coprente Dà un effetto Cipriato Sul viso È qualcosa Di fantastico È bellissima Davvero Bellissima Ottimo Ottimo Prodotto E Ve lo straconsiglio Questo è il prodotto Che ho amato Di più In assoluto Come potete vedere Nutre anche Le piccole Rughette Di espressione Questa è la BB cream Figuriamoci Il fondotinta Che coprenza E che effetto Che ha Sul viso Come potete vedere Anche le mie Rughettine Di espressione Si sono Riempite Con Il Con questo prodotto È davvero Fantastico Io non ho Non ho parole Davvero È stato Il migliore prodotto Che Ho provato Per quanto riguarda Le BB cream Ho amato Anche quella lì Della Midas Che vi ho fatto vedere Fino alla Namsea Però questa qui Ad esempio Non necessita di cipri Ed è una cosa Che io adoro Molto molto buona Davvero Non ho parole Poi è una coprenza Fantastica Per intenderci Per farvi capire La coprenza Copre di più Di quella lì di Garnier Per pelli miste e grasse Che comunque Copre tantissimo Questa qui davvero Funge proprio Da fondotinta Per chi ha Poche imperfezioni Come me Cioè Che non deve coprire Brufoletti Macchie cutanee O Forti Borsi sotto gli occhi Scusatemi Io Ve la straconsiglio Davvero Questa qui Ha un costo Di 35 euro Però Davvero Non ho nulla da dire Perché È un ottimo Ottimo Prodotto Tanto è vero Costa più La BB cream Che il Fondotinta Cioè Ho detto tutto Ma davvero Costa un pochettino Costa abbastanza Me ne rendo conto Però è davvero Un ottimo prodotto C'è Tanta possibilità Di scelta Per quanto riguarda Le colorazioni Quindi Sicuramente Riuscirete a trovare Il sottotono Che Vi serve Infatti Se hai colorazioni Di BB cream Non ho mai Non l'ho mai sentita Solitamente Fanno La chiara La media E la scura Cioè Non è che variano Che vi fanno Tante colorazioni Tipo fondotinta Per intenderci Comunque Sono davvero Soddisfatta Di questo prodotto Poi L'ultimo prodotto Che mi hanno inviato È il prodotto Praticamente Che tutte le foto Che ho realizzato Con questi ombretti Tutte voi Su facebook Mi avete chiesto Che prodotti ho usato Che colori Come sono belli Questi colori E vi faccio vedere Allora Mi hanno inviato La palettina Di 5 ombretti Che in totale Sono 9 grammi Di prodotto Come potete vedere Tutte le loro scatoline E il loro packaging Sono molto molto eleganti E questa qui È senza parabeni E senza fragranze Ed ha una scadenza Di 18 mesi Sono tutti prodotti Made in Italy Mi sono scordata Di dirvelo Purtroppo Io l'inci Non ve lo riesco A far vedere Perché le scatoline Sono specchiate Come il packaging Infatti potete vedere Che un pochettino Le editate Perché l'ho utilizzata Sempre Si può dire Ed è questa qui Ecco I colori Sono Questi Ha due applicatori Come potete vedere Che io Non ho utilizzato Li ho utilizzati Soltanto Per mettere il prodotto Sotto la rima E ha dei colori Davvero bellissimi Quest'oro È qualcosa Di fantastico Come potete vedere Sono molto scrivensi Sono molto scriventi Ed hanno una bella Satinatura Non sono quella Quel satinato Brutto Che Non mi piace Vedete È molto molto bello Questo oro Fantastico In questa paletta Abbiamo due colori Matte E No Tre colori matte E due shimmer Scusatemi Poi abbiamo Questo viola Che ho messo Nell'angolo esterno E All'oro L'ho utilizzato Vicino al condotto lacrimale Verso la palpebra mobile Sfumato Questo è Il viola Vedete La scrivenza È assurda Questo è Il lilla Che l'ho utilizzato Per un altro trucco Sempre che vi ho postato La foto Che vi ho postato La foto Su Su facebook E l'ho utilizzato Sfumato Nella piega Questo lilla Vedete Molto molto scrivente Poi Ho utilizzato Sempre Questo azzurro Che mi vedete Sulla palpebra mobile Vedete Questo colore qua Questo Bellissimo E poi Per finire Un secondo Che mi pulisco Le mani Perché Se no Gli swatch Non rendono Comunque è fantastico Come potete vedere Tutti molto scriventi Secondo solo Mi pulisco bene E come ultimo colore C'è il verde Che è quel verde Che va Quest'inverno Sono molto Al tatto Sono molto Setosi Sembra quasi Un prodotto In crema Questo è il verde E questo È Lo swatch Devo dire Che non sono Per nulla Polverosi Perché io Quando ho realizzato Questo trucco Avevo già fatto La base E come potete vedere Non ho avuto problemi Di full out Quindi davvero Ottimi prodotti Ottima palettina Niente da dire Beh Be colori Bella scrivenza Sembrano polverosi Ma vi ripeto Non ho avuto Alcun problema Di full out Quindi Davvero Ottimo prodotto Adesso Inizio con le mie Considerazioni Questa palettina Qui ha un costo Di 35 euro Vi faccio vedere 34 Paletta 5 ombretti 34 euro Allora Cosa Cosa ho da dire Allora Indubbiamente Tutti i prodotti Che ho avuto Modo di provare Sono ottimi Ottimi Prodotti 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 di alta qualità Prodotti di alta profumeria Anche se la Labo Almeno qui da me La riesco a reperire In farmacia Sono davvero Prodotti Ottimi Infatti Voglio dire Non hanno Un prezzo Abbordabilissimo Nel senso Sono prodotti Che consiglierei Più a delle ragazze Dai 30 anni Dai 25 anni In su Non alle ragazzine Alle prime armi Perché comunque Sono prodotti buoni Non serve Insomma Una BB cream Di 40 euro Per iniziare a truccarsi Sono Dei prodotti Che io consiglio Le ragazze Già Insomma Appassionate Di make up Sicuramente Io Vabbè La BB cream È l'unico prodotto Che vi consiglio Nonostante il prezzo Perché è davvero Buonissima È un prodotto Che andate sul sicuro Cioè È davvero Qualcosa Di fantastico Fa un bellissimo Effetto Sul viso Molto naturale Ha un'ottima coprenza Quindi potete Tranquillamente Sostituirla A un fondotinta E comunque In commercio Ci sono fondotinta Come di Armani Chanel O altri Altri brand Molto più costosi Di questa BB cream Qui Che reputo Davvero Fantastica Quindi È l'unico prodotto Che vi consiglierei Insomma Inizio con Allora La mia considerazione È Per quanto riguarda La matita occhi La matita occhi È fantastica Vi dura Una vita All'interno Della rima interna Non c'è bisogno Di tamponarla Con qualche prodotto In polvere Perché è davvero Di dura Però 18 euro Per una matita occhi Mi sembra Un po' eccessivo Mi sembrano Insomma I prezzi Che troviamo Da MAC Matite occhi Long lasting Le fa anche La Wicom Nella Kiko E sicuramente I prezzi Sono Molto più accessibili Infatti Magari Insomma Se la Lab Vede il mio video Un consiglio Che magari Voglio dare Per dare anche La possibilità A tante ragazze Di provare Il loro brand E di fare Una linea trucco Un poco Più economica Io capisco Che loro Utilizzano Soltanto Prodotti E materiali Di alta qualità Me ne rendo conto Però anche I prezzi Sono un po' Eccessivi Ad esempio La palettina Costa 35 euro Come avete potuto vedere Da Yeswatch E super scrivente E bellissima Io me ne sono innamorata Appena l'ho vista Però come ben sapete Con 7-8 euro Di differenza O massimo 10 euro Voi vi comprate Insomma Una paletta Di Urban Decay Con 10 ombretti O di Too Faced O di Benefit No Benefit Mi pare che non le fa Le palette Fa prodotti Non mi vorrei sbagliare Correggetemi se sbaglio Comunque paletta Aggiungendoci Insomma Una minima differenza Tranquillamente Potete comprare Una paletta Con molti più ombretti E la stessa Qualità Se non Migliore C'è anche da dire Che Per difendere Insomma La palettina Di Labbo Ci sono anche Le palettine Della Dior E della Chanel Che fanno schifo E che le vendono A 50 euro Quindi Anziché Per le ragazze Che si possono permettere Una paletta Chanel O una paletta Dior Ecco Io vi consiglio Di provare Questa qui Di Labbo Perché è Superiore Di qualità Ma proprio Di gran lunga Io ho La mia amica Ha una paletta Di Chanel Di quella Con gli ombrettini Cotti E fa davvero Schifo E l'ha pagata A più di 50 euro Quindi voglio dire Questa qui costa 34 euro Però State certe Che i prodotti Sono super scriventi Super duraturi I colori Sono belli Vibranti E' molto Molto bella Davvero Questa paletta Vi ripeto Io la consiglio Per chi Compra Prodotti Di alta profumeria Come la Chanel La Dior E anziché Spendere Una 50 euro Di palette Dior O Chanel Solo perché Dior e Chanel Hanno quel prezzo Ma come qualità Fanno schifo Parliamoci chiaramente Questa qui E' di gran lunga Superiore Poi Un altro prodotto Per esempio Che ha un prezzo Un pochettino E' il rossetto Il rossetto Costa 22 euro Sapete che Insomma Tutti i rossetti Di MAC Costano 18 euro E 90 I rossetti Di MAC E' il rossetto Per eccellenza Quindi Vi ripeto Io Li considero Ottimi prodotti Però Secondo me Devono rivedere Un pochettino I prezzi Anche per renderli Più accessibili A Un po' a tutti Non tutti Si possono permettere Prodotti Di make up Insomma Con questi prezzi C'è da dire Che Magari A seconda Di dove andate Vi fanno Degli sconti Quindi avete La possibilità Anche di pagarli Meno Questo Questo È anche Una possibilità Però Se c'è Un negozio Che si attiene Al loro listino Comunque I prezzi Sono questi E Vi ripeto Sono ottimi Prodotti Mi ci sono trovata Benissimo Come prime impressioni Poi vi farò sapere Queste sono sempre Prime impressioni Vi farò sapere O nei preferiti O nei promosse Bozzati Però vi ripeto Sono davvero Buoni prodotti Non ho trovato Alcun difetto Per adesso L'unica pecca È il prezzo Per alcuni prodotti Che secondo me È eccessivo In particolar modo La matita occhi 18 euro È Un pochettino Eccessivo Secondo me Costano quanto Le matite di MAC Praticamente Quando poi Alla fine In commercio Ci sono matite Come quelle Le long lasting Di Wicon Che sono Ottime E hanno la stessa Durata Di questa qui Che ho A 4,95 euro Ovviamente All'interno Come Formulazione Non sarà la stessa Però io faccio Un discorso Economico La palette Vi ripeto Per chi compra Chanel E Dior Come palette Io vi consiglio Di provare La Labo Makeup Perché Costa molto in meno E gli ombretti Sono molto più scriventi Rispetto a quelle Dior e Chanel Però anche Per me La palettina Ha un costo eccessivo Quando poi Con 10 euro Di differenza Vi prendete O la Too Faced Che ho La nuova La Pretty Rebel Che costa 43 euro Ma tiene 10 ombretti Lo stesso vale Per La Urban Decay Vi prendete O la Naked La Naked 2 O la Naked 3 Che ci sono 12 ombrette All'interno Quindi vi ripeto Ottimi prodotti Ma secondo me Devono visitare Un pochettino I prezzi L'unico prodotto Per cui vale la pena Spendere 35 euro Perché è un prodotto Che secondo me Vale E poi La prima cosa Del trucco Che secondo me Si nota È la base Si ha una buona base Anche se avete un trucco Molto molto semplice Comunque Vi rende Insomma Il viso radioso Se si usano Buoni prodotti Vedete Io sono sbigottita Per questo prodotto Io non ho Una Non ho niente In viso Sembro una bambola Di porcellana È davvero Fantastica Questa BP cream Ed è l'unico prodotto Che mi ricomprerei Piano piano Mettendo da parte I soldi Perché so Che è un prodotto Che vale Anziché Comprarmi 50.000 fondotinta Di scarsa qualità Me ne prendo uno Ma buono Anche perché io lo considero Un fondotinta Non lo considero Una BB cream Questo è quanto Ragazze Io Vi ripeto Vi consiglio Tutti i prodotti Perché sono davvero buoni Però vi faccio anche Un discorso prezzo Che secondo me Alcuni prodotti Sono eccessivi D'accordo Io Sono Cioè Capisco la qualità Però Ci sono tanti altri prodotti Di Qualità Diciamo Con la stessa resa Ma a prezzi Inferiori Non è benigrare L'azienda Anzi Io ringrazio Per la possibilità Che mi è stata data Però I prodotti Sono ottimi Però Su alcuni prodotti Mi aspettavo Un prezzo Inferiore Anche perché Voglio dire Sul mercato Ci sono Tanti Tanti brand Come il discorso Della palette Adesso per dirvi Ho ordinato La palette Di Paola P. Nuova La India Collection E Collection E L'ho pagata 31 euro Ma all'interno Tiene Mi pare 8 ombretti Comunque Le cialde Sono molto più grandi Rispetto a questa palettina Qui Vi ripeto Come sostituta Delle palette Super costose Di Chanel E Dior Io ve la consiglio Perché 35 euro Per chi si può permettere La palettina Di Chanel E Dior Questa qui È superiore Non ha proprio Paragone Rispetto a quelle Di Chanel E Dior E niente Ragazze Spero di esservi Stato utile Fatemi sapere Cosa ne pensate Dei prodotti Di quello che vi ho detto Insomma Di cosa vi ha colpito Io vi mando Un forte bacio Come sempre Faccio video Lunghissimi Ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Ciao ragazze